Al circo! Darò 100 euro a chi riesce a far sedere l'elefante! Ci provo io! Bravo! Come ci sei riuscito? È stato semplice! Gli ho fatto il solletico! Ecco i 100 euro! Darò 100 euro a chi riesce a far sedere l'elefante! Ci provo io! Oh no! Ancora lui! Bravo! Come ci sei riuscito? Gli ho fatto il solletico! Ecco i 100 euro! Darò 1000 euro a chi riesce a far dire sì con la testa l'elefante, poi a fargli dire no con la testa e poi a farlo sedere! Ci provo io! Eh eh! Stavolta non ce la può fare! Ciao! Ti ricordi di me? Vuoi che ti faccia ancora il solletico? Bene! Allora sediti! Ambrogio! Io vado all'estero per una settimana! Ti affido la villa! Ti prego di custodirla al meglio! Ma certo signore! Ambrogio! Come stanno andando le cose? Mi dispiace signore! Si è rotto il manico della vanga! Ma che razza di notizie è? Non è una cosa importante! Eh sì! Ma si è rotto mentre stavo seppellendo il cane! Cosa? Fuffi è morto! Come è successo? Si è tuffato in piscina! Ma lui sa nuotare! Come è possibile? La piscina era vuota! Vuota? E perché? L'acqua è stata usata dai vigili del fuoco per spegnere l'incendio della villa! Bruciata la villa! Oddio! Com'è successo? Sono state le candele per la veglia di sua mamma! Cosa? È morta anche mia mamma! Impossibile! Manco da due giorni e la mia vita è rovinata! Ci sarà pure una notizia positiva! Sì! Una ce n'è! Quale? È arrivato il risultato del suo test covid! È positivo! «Ê书à «Îesso» Miurlazione» Lui ISG Com'è BuzzFile Oh! Qu'è Trip Lo